Francesco Iori, le terme di Abano non sono certo un'invenzione recente, ma tra le innumerevoli pieghe della loro storia hanno anche un oracolo. Gerione, notissimo nell'antichità, è stato consultato da personaggi da VIP dell'epoca romana che poi diventeranno imperatori, ma è stato consultato anche da tutta una serie di persone più o meno famose. Era un'area termale fin da allora, quindi molto sfruttata e ricercata, con questo indotto, con l'oracolo che ti prediceva il futuro, ma c'era anche una specie di piccolo centro commerciale, un po' riume si chiamava allora, dove si potevano acquistare i souvenir della zona ed era, aveva una rinomanza molto al di là dei confini veneti.